Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione quotidiana di TV City. Esplode in tutta Italia la protesta contro il nuovo DPCM. Gli esercenti si sono riuniti nelle principali piazze italiane per protestare contro le chiusure. Intanto il Premier Conte annuncia un nuovo decreto con sussidi economici per tutte le attività colpite dalla chiusura. Sempre in tema di emergenza epidemiologica ci spostiamo nel Vesuviano. Boom di contagi riscontrati ieri a Torre del Greco. 45 sono i nuovi positivi. E sempre sull'emergenza Covid abbiamo ascoltato i cittadini di Torre del Greco che lamentano una sempre più diamantica assenza di controlli sia la mattina sia la sera dopo il coprifuoco. E per concludere una buona notizia per la cultura. Ristaurato un nuovo edificio negli scavi archeologici di Pompei. Si tratta di un'antica conceria che diventerà un centro didattico dopo il restauro. Questo è molto altro nei nostri servizi. Ancora polemica sull'ultimo DPCM. Ieri in tutta Italia si sono svolte manifestazioni di protesta contro la chiusura alle 18 di bar, pasticcerie e ristoranti imposta dal decreto. Dopo i disordini di Napoli di venerdì notte, le principali città italiane hanno seguito l'esempio. Esercenti in piazza dopo le 18 per far sentire la loro voce. Non sono mancati i problemi. A Milano la manifestazione è sfociata in violenza, mentre a Torino alcuni vandali hanno approfittato per sfondare e saccheggiare una vetrina di Gucci. A Napoli gli esercenti si sono riuniti in piazza Plebiscito e sotto al palazzo della regione a Santa Lucia. Cori e striscioni, ma niente violenza davanti all'occhio vigile delle squadre antisommossa. Il sindaco Luigi De Magistris avrebbe dovuto prendere parte alla protesta unendosi ai cittadini, ma poche ore prima del corteo ha smentito. Nelle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Radio 24 ha rimarcato la sua opposizione alle limitazioni. Governo deve cambiare marcia e invece si è fatto trovare impreparato e sta manifestando le stesse misure di marzo, spiega il primo cittadino. Questo mi sconcerta perché questo disorientamento si poteva capire all'inizio, ma ora siamo a ottobre. Intanto, a partire dalle 18, il centro storico di Napoli si è spento un po' alla volta, seguendo il coprifuoco. Qualcuno ha chiuso prima delle 18 e cecchi invece ha deciso di non chiudere per protesta, ma un'iniziativa di singoli che non ha trovato consensi nei locali vicini. La situazione è aggravata anche dall'ultimo chiarimento pubblicato dal presidente della Campania De Luca, in cui è stabilito che anche l'asporto è consentito solo fino alle 22.30. Urgono misure per contenere le perdite dei tanti esercenti costretti a chiudere. Il Premier Conte ha annunciato che in giornata si svolgerà il Consiglio dei Ministri per approvare e firmare il decreto Ristori, per decidere sussidie ed interventi economici per le categorie colpite dalle chiusure. I Ristori a fondo perduto saranno il pezzo forte del decreto di lavorazione e arriveranno in tempi record entro il 15 novembre, avrebbe inoltre detto il Ministro dell'Economia Roberto Qualtieri, nel corso dell'incontro con le categorie. Il nuovo intervento a fondo perduto avrà un funzionamento legato al meccanismo già utilizzato con il decreto rilancio di aprile. Ci saranno anche sostegni specifici per turismo e somministrazione, cioè bar, ristoranti e pub. Il Governo si assume le proprie responsabilità, annuncia Conte, ed è giusto che il suo operato sia sindacato e sottoposto a critiche, ma se perdiamo di vista l'obiettivo di marciare tutti insieme nella stessa direzione per uscire dalla pandemia, rischiamo di aggravare la situazione nel Paese. Intanto, la Farnesina ha raccomandato a tutti i connazionali di evitare viaggi all'estero, se non per ragioni strettamente necessarie. Sul suo sito fa anche presente che, considerato l'alto numero dei contagi in molti Paesi europei, non si possono escludere future ulteriori restrizioni agli spostamenti, che rischierebbero di complicare eventuali rientri in Italia. Nuovo boom di contagio a Torre del Greco. Ieri sera il sindaco Palomba ha annunciato altri 45 nuovi positivi riscontrati in città. Di questi, 44 sono asintomatici. Restano numeri preoccupanti per la città del Corallo, che raggiunge quota 211 cittadini attualmente positivi, di cui però solo 5 ospedalizzati. Con questi dati pesa sempre di più la quasi totale assenza di controlli da parte delle forze dell'ordine, sia la sera, quando dovrebbe essere rispettato il coprifuoco, sia durante il giorno, quando vengono a crearsi continui numerosi assembramenti per le vie del centro. Situazione critica anche per Ercolano, dove il bilancio, aggiornato al 25 ottobre, è di 287 attualmente positivi. Il sindaco Bonaiuto ha annunciato che la curva dei contagi è in continuo aumento ed ha invitato i cittadini al sacrificio e dalla sopportazione per superare questo difficile momento. Più gestibile è la situazione di Torre Annunziata, che ieri ha registrato solo una nuova positività, bilanciata inoltre da una guarigione. Un pareggio che quindi non va ad aumentare il numero dei tuttura positivi in 99, di cui però 8 ricoverati con sintomi. Il sindaco Gaetano Cimmino di Castellammare di Stabbia ha fatto il punto della situazione con una diretta su Facebook, smettendo la notizia di una possibile zona rossa estesa a tutta l'area cittadina. La situazione resta però critica, sia per l'alto numero di attualmente positivi, ieri 346, sia per la chiusura del pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo, per i troppi casi di coronavirus riscontrati. Nuovo DPCM, ma ancora troppo pochi, i controlli nella città di Torre del Greco. Alle telecamere di TV City, i cittadini intervistati si dicono preoccupati per la gestione dell'emergenza e lamentano l'assenza parziale e talvolta totale dei controlli. Emergenza Covid-19. A Torre i controlli sono sufficienti secondo lei? Secondo me i controlli non sono sufficienti. Li vedo ma non fanno neanche alzare la mascherina. Io la mascherina l'ho sempre portata anche quando dissero sono nei luoghi chiusi. Nota ancora gli assembramenti nonostante la chiusura? Io gli assembramenti li noto anche di mattina. Se lui decide che la sera si deve chiudere, secondo la mia opinione, anche la mattina non si devono fare assembramenti. Perché non è che il microbo esce la sera e la mattina non ci sta. La mattina c'è molto assembramento. Se uno deve chiudere, anche la mattina ci deve essere una massima attenzione. Emergenza Covid-19. Secondo lei i controlli a Torre del Greco sono sufficienti? Ma diciamo abbastanza. C'è gente, ci sono ancora assembramenti secondo lei? Abbastanza, parecchi assembramenti pure nella villa comunale, da tutte le parti. Io vedo sempre un po' di gente accumulata, sempre qualcosa del genere. A Torre del Greco ci deve stare un controllo per non fare affollamento. Com'è Torre dopo le 18? Per me è un muttorio, però purtroppo dobbiamo rispettare le regole. Se vogliamo stare bene, ci vogliamo aiutare la nostra salute, dobbiamo rispettare quello che dicono tutti. Alle 9 di sera, 8 di sera, a Torre del Greco non gira più nessuno per strada. Sono i ragazzi, i giovani, le persone che gli piace stare in giro, ma sono pochi. E quei pochi che ci stanno purtroppo infettano perché non rispettano le regole. Appena si bevono un drink finisce tutto, non c'è più mascherina, non c'è più distanziamento, non c'è più niente. Purtroppo bisognava aiutare, non adesso, già prima queste gesure che hanno fatto adesso. Io penso che sia una cosa giusta per fare un po' la situazione, per mettere sotto controllo la situazione, perché qui stiamo rovinati. Un disastro, per tutta la pavola gente che deve portare il pane a casa. Io non parlo per me che c'è una pensione, però questi ragazzi come devono fare? Gli esercenti? È un disastro. Non so come noi usciremo. Con la chiusura di ristoranti, bar, pasticcerie, gelaterie, anticipate alle ore 18, come appare Torre del Greco dopo quell'ora? Uno spettro, uno spettro, è spettrale. Eri abitano le litorane, mi sembrava di stare in guerra. Dobbiamo collaborare tutti quanti, no? Perché a volte vedi delle persone pure anziane, dovrebbero stare in casa. Due anziani davanti a me, tutti e due con la mascherina abbassata, è inutile che ti metti la mascherina. Cioè la tieni qua sotto, che la tieni a fare? Se è anziano state a casa, magari non c'è nessuno, a me dispiace più. Però li ho curati. Ho visto una grande differenza e soprattutto c'è grande collaborazione da parte dei cittadini. Con la chiusura anticipata alle ore 18 di bar, pasticcerie e ristoranti, come appare ad oggi Torre del Greco? Effettivamente appare una città vuota, spenta e non più luminosa e movimentata e bella, sorridente come prima. Nuovi restauri nel sito archeologico degli scavi di Pompei. Un altro importante edificio di Pompei, la Conceria della Reggio Prima, il più grande impianto artigianale per la lavorazione delle pelli rinvenuto nella città antica, potrà essere restituito alla fruizione del pubblico. E ciò grazie all'intervento di restauro e valorizzazione in corso tra il Parco archeologico di Pompei e Unic Concerie Italiane, che ne ha sponsorizzato il progetto. Il progetto è stato di recente avviato sotto la direzione operativa e scientifica del Parco, che ne ha curato anche la progettazione tramite i suoi funzionari. Attualmente sono in corso gli interventi di risistemazione della strada che dà accesso all'edificio, il cosiddetto vicolo del Conciapelle. In larga parte la cunosa è sconnessa a causa dei danni prodotti dalle bombe, che tra l'agosto e il settembre del 1943 colpirono l'area arcologica di Pompei. Contestualmente si sta procedendo al restauro conservativo dei locali e degli apprestamenti legati alla concia delle pelli, nonché del triclinio estivo in cui il proprietario del complesso artigianale accoglieva i propri ospiti. A questi primi interventi farà seguito la realizzazione di un allestimento didattico-espositivo, che illustrerà ai visitatori come si svolgeva in antico il processo di lavorazione delle pelli, prevedendo anche l'esposizione o la riproduzione degli strumenti originali usati in antico, secondo il modello del museo diffuso già sperimentato con successo a Pompei. Grazie per la cortese attenzione, per info e segnalazioni, redazione, chiocciolativusiti.it o il numero di telefono 340 65 61 484. Grazie per la cortese attenzione, per la cortese attenzione,